Dal 1964 serviamo il territorio di Ferrari, con i migliori prodotti edili per le vostre necessità. Sono Andrea Marchetti, insieme ai miei figli portavanti l'azienda. Edilizia Marchetti, azienda familiare che pogge le sue fondamenta con mio padre, che apre un piccolo capannone in via Bologna, per poi spostarsi qui, in via Platis 11, zona Cassa. Vi porta con me, a conoscerci meglio attraverso i nostri prodotti. Abbedimento tecnico, soluzioni per il giardinaggio, ferramenta specializzata, materiali edifici. Vieni a trovarci, via Platis 11, per ricevere la tua consulenza specializzata. Contattateci per un preventivo gratuito. Vieni a trovarci, via Platis 11, per ricevere la tua consulenza specializzata.